Buonasera, buonasera da casa Castellano, la Roma che fa? La Roma ha perso 4-1 con Napoli e notiziona dell'ultimo momento Ranieri si è dimesso, quindi ha lasciato la sua impronta sul nulla, l'impronta sul nulla, tre partite, quanti punti ha fatto? Il mio suggeritore, tre punti, quindi praticamente ha fatto rimpiangere a Di Francesco, e quindi niente, cara Rometta, quindi per il prossimo anno ancora nessuna Champions, quindi adesso noi ce l'andiamo a giocare con la Lazio, la Lazio fra pochi minuti ce l'andiamo a giocare, quindi una vittoria sarebbe importantissima. Certo questo mister Ranieri che è veramente un allenatore mediocre che vive di rendita di quello famoso scudetto inglese che non si sa da dove si è nato, come si è uscito, come si è maturato, ma è un mediocre, uno che non può improvvisarsi sulla panchina della Roma solo perché è romano, solo perché è stato una volta a Roma. Ciao Roma, ciao, ciao, a dopo. Grazie. Grazie. Grazie.